Brunoni bentornati in questo nuovo video di amon gas qui su marci games oggi ragazzi faremo una cosa incredibile Faremo la nuova modalità camper le regole sono semplici per tutta la partita non dovrò farmi vedere da nessuno e questo come si farà Dovrà mettere l'uola che cosa vuol dire che io posso passare attraverso i muri come ben vedete e vado fuori Vado in giro vado in giro tanto quando mi dovrebbe vedere nessuno tipo ok Raga non mi deve vedere proprio nessuno andiamo ad esplorare la mappa Vediamo cosa c'è nella mappa Sto andando un po troppo lontano forse e mi sa di sì e mi sa di sì io ragazzi non devo farmi vedere da nessuno Nessuno ok qua c'è un po di stelle che stanno riapparendo ok vediamo se vedo qualcuno Vediamo se vedo qualcuno peraltro raga c'è anche un'altra modalità che potrei aggiungere che è questa qua che si chiama satellite ma ci voglio fare un video a Parte come ben vedete io riesco a vedere un pochettino meglio Dove sono le persone in realtà io posso utilizzarla questa cosa perché mi aiuta un botto a capire se ci sono delle persone in giro o non in giro quando sono fatto Le luci ok io purtroppo la visione bassa lo stesso Ah non mi vede nessuno non mi vede nessuno non mi vede nessuno che ha una serie sen si è rialzato si è rialzato diciamo così con calma diciamo così con Raga è la cosa più strana che mi avevi fatto in tutta la vita aiuto 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 io posso vedere guarda da questo esce baddi da qua vediamo se riesco a vederlo Non riesco a vedere ma ok vedo vedo xiao Oddio Oddio ragazzi oddio devo stare mega attento ragazzi ok Eccoci Grazie ragazzi Alla buonore Xiao Xiao l'hai portato C'era xiao morto davanti elettrica e boh martini era dentro elettrica Ai 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 martina tua discolpa cosa hai da dire che io io sono ho trovato che siamo morto e sono rimasta senza parole sono rimasta lì fermo Quella è vera Raga ma martina è pulita perché c'ero anch'io in elettrica poi sono uscito meno sono andato dove c'era bruce che stava facendo le cose E da che parte sei andato baddi dove c'era bruce che stava facendo le cose in admin Ho capito ma perché non l'hai portato tu almeno scusa Scusa allora l'hai visto E raga se non c'era nessuno cosa devo riportare Ma nico era lì però non capisco se l'ha visto non l'ha visto non lo so ha fatto molto Aspetta ma marti è arrivato dopo di te nico o prima? Ma in realtà ci siamo incrociati io venivo da sinistra e lei usciva da elettrica Poi c'è stato un attimo di confusione e nessuno due riportato Quindi è nico praticamente mi stai dicendo Esatto Non lo so non credo Forse io voto loco No io non voto loco No non è loco No io schifo E io schifo E io schifo Va bene Ormai ho votato loco Ma perché io? Perché tanto alla fin fine tu c'entri sempre In qualche modo In questi casi sono l'impostore tanto Vabbè ma d'accordo ma giusto Esatto Il problema sai tu qua Ok 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 raga ok Come avete visto mi sono già tippato via Devo stare mega attenta a non farmi vedere da nessuno Vorrei fare le tasche almeno raga perché Sarebbe opportuno comunque che facessi anche le tasche in qualche modo Vediamo un po' su delle tasche da fare No da fare in elettrica Ok Però in elettrica Io ragazzi ho il radar alla sinistra Posso vedere se c'è qualcuno Ma devo stare mega attento Devo stare mega attento Buddy si è fermato tipo lì raga Non so per quale strano e arcano motivo Ok Devo fare questa roba qui Facciamo questo Raga non mi deve vedere nessuno Non mi deve vedere nessuno Aiuto Ho pure a che arrivi qualcuno Ho pure a che arrivi qualcuno Ho pure a che arrivi qualcuno Ok Dove averlo fatto Ok Nico morto davanti al reattore Posso chiedere perché Era Marci che Se l'impostare che ha chiamato al reattore dopo aver fatto la kill deve essere un po' Ma dove chi era? Al reattore Io mi sono bagato in shield raga Non so per quale motivo non mi usciva la schermata Ma ero io in shield A me non mi usciva la schermata Io ho visto tutto Io ho visto tutto Marci volava fuori dalla nave No non è vero Mi sono bagato in shield e non mi riusciva più di uscire Potrebbe esserci E allora è Marci Ero in shield Sono andato subito all'inizio Ero io in loco Sono rimasto fermo due minuti in shield che non mi si sbloccava Cioè meno male che avete chiamato il cadavere Ma non mi vedevate scusate Non c'eri tu Io t'ho visto Ma come non c'ero Io t'ho visto ma da un'altra La parte comunque però vabbè Stanno raccontando un sacco di balle secondo me Maddi cosa hai votato Io ho votato te Come me Eh buono volevo votare te No ma se scusa se Mazzè, Loco e Martino erano shield Non ci credo Lei è arrivato Loco E' viva Ciao Loco Matteo chi ha votato scusate Da solo da solo No Ma perché Loco Loco Marci uno dei due Ma che loco Ma perché Perché No no che è buono Perché Vabbè scusa Io allora vota me Ho visto L'ho visto fare bene Io adesso ragazzi Faccio l'emergenza Io faccio l'emergenza e voto Buddy Ok come la mettiamo Guardate Ma l'emergenza del Ma è sbagliata l'emergenza 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 Non l'ho fatto io Ma sei sicuro Sto aspettando Sto aspettando No ragazzi Sto aspettando Non preoccupatevi Sto aspettando 2 0 9 5 8 Bravissima Brava brava Grazie 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 Votiamo Buddy Ma perché Io voto Buddy Non mi interessa Giusto perché camminavi fuori dalla nave Hai puntato il dito su Nico All'inizio Su Bruce Su Martina Su Loco Su Matteo Su tutti Adesso mi auto voto Non ho capito Adesso mi voto io Mi voto da solo per indecisione Ciao È che mi dispiace Perché magari È veramente l'impostore Che non sono sicuro Ogni volta che buttiamo a casa il nome Lo becchiamo Quindi io schifo Votiamo Barbie Votiamo Barbie Viole Barbie No io ho schippato Vero Marci Si camminava fuori dalla nave Sto schifoso Fuori dalla nave Era Buddy Era Buddy Fuori dalla nave Fuori dalla nave Stava camminando Fuori dalla nave E mi sa che voi Camminate un po' insieme Fuori dalla nave Esatto Bene così Benissimo 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 Io mi sono dovuto di nuovo Tipare via Ormai hanno capito Buddy l'ha capito Che sto trollando un pochettino Ma cosa devo fare Se devo fare veramente il camper In qualche modo E fare anche le missioni Guardate che è difficile Fare pure le missioni Ok adesso sono senza radar Non voglio farlo senza radar Ok ho le cose in storage Ma come faccio a non farmi vedere Lo so ragazzi Ho un altro metodo Però l'altro metodo Non lo voglio utilizzare Voglio utilizzare questo Voglio cercare di farla così Martina è lì Ok Mi sembra È Martina Mi sembra che fosse Martina Ma lo sono sognato Che era Martina Ho la quest in navigation Ho la quest in navigation Ho la quest in navigation Facciamola quest in navigation Cioè il mio obiettivo ragazzi È finire tutte le quest Senza mai farmi vedere Ok ne ho una in admin Vabbè raga Senite riattivo il radar Perché sennò è impossibile da fare Ne ho un in storage Come faccio ad andare lì raga Ok Oddio è morto Buddy Morto Buddy Ma chi è che fa Uccidere Buddy è che noia Prima e ve la sentite Vabbè comunque Allora Il Buddy Qualche secondo fa Era con lei Grazie Grazie Era con lei Ah si inizia il game Lo disse in security Poi sono Io raga ho visto Xiao sospetto Votato Ma no raga L'ho visto che camminava dietro gli angoli Proprio Io skip Io skip Non puntiamo il vito a casa Come prima che se no lo azzecchiamo Eh Mica che poi Io passiamo Io per casa No perché se sei tu poi me lo sento nel gruppo Nel gruppo Nel gruppo Io qualsiasi personale Mi fa votare Xiao Eh Segnare il destino No raga Il destino Meno male il mio voto ha cambiato le sorti di Xiao Xiao se sei tu non mi uccidere fino alla fine Mi raccomando Raga è complicatissima questa cosa Ok devo farti po' velocissimo Mi sono tippato direttamente in elettrica Vediamo se da fare qualcosa in elettrica Sì Cavolo c'ho questo qua da fare Ok ottimo Perfetto Io posso andare di qua Faccio questo Non mi deve vedere nessuno raga Non mi deve vedere Se mi vede qua Già prima mi ha visto Buddy E per me il fatto che mi abbia visto Buddy È una sconfitta ragazzi È una sconfitta il fatto che mi abbia visto Buddy Però vabbè Ok Ho da fare qualcosa in security raga Ok Ho da fare questo qua Ok Ok Ragazzi Dove eravate? Ma tu dov'eri scusa Perché dentro un muro? Dove eravate? Io ero in storage Sto No Ero io in storage Stavo venendo in storage Ma c'ero Ah Stavo venendo in storage Da dove stavi venendo scusa? Da communication Mmm Come scusa non ho capito Dov'eri Bruce tu? Io in navigation adesso Stavo Ce l'upload E tu invece Nico punto Dov'eri? Io ero in Come si chiama? In madbay Mi hai visto? Eri dentro al muro tu Ma che dici? Invece Martina dove eri? Io ero in security Martina è morto Un po' così ve chiede Io vi sto dentro un muro Io ero in security ero Nel muro? Nel muro Boh io ero in security Sono uscito da security Stavano andando a fare La memoria In Reattore C'era il signor Locolochis morto Quindi Martina è morto Quindi Martina è morto Dentro il muro stavi tu? Dentro il muro Sì sì Ma come è in giro il muro? Eh sì Secondo me Secondo me potrebbe veramente Stavolta potrebbe essere veramente Xiao Oh se mi vuoi votare votami Io Dai schifiamo E' uno solo Deve fare altre 4.000 kg Lo vogliamo dopo Facciamoli fare un'altra kill Magari non farla su di me Ma cosa? Farla su di me Se uccidi Nico non ti voto No non sono molto d'accordo E invece io sono d'accordo Allora tu morirai Raga Il nostro piano Non sta andando proprio a gonfie vele Raga Non sta veramente andando a gonfie vele Io qua Ok ho communication da fare Via Devo far communication Guarda raga Devo finire tutte le missioni Finisco tutte le missioni Volo raga Se finisco tutte le missioni Volo Devo fare ancora Un upload E le luci Devo fare Un upload E le luci Raga Non mi sta vedendo nessuno Non mi sta vedendo nessuno Che bello Ok Giallo Rosso Blu E magenta Ok Raga non c'è nessuno Volo Non c'è nessuno Volo Ok Nessuno Raga non mi ha visto Nessuno Non mi ha visto Non mi ha visto nessuno Vado a tipparmi D'altra parte Reattore Mi sono tippato il reattore Raga sperando che non ci sia nessuno Porca di quella miserietta No c'è Bruce Raga C'era Bruce Ok 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 raga Oh report Stavento Marci ma è il quinto cadavere che reporti però eh C'era Bruce morto in Ma sempre Marci? Secondo me self report E secondo No non è self report E su Allora Matteo ha fatto Una missione vicino a me E quindi non era lui Nico è Era in security Nico mi ha visto dentro Alla cosa prima Aveva ragione Ma io sono stato mezz'ora con Nico e Bruce Però all'inizio Stavo guardando le telecamere Appunto E poi l'ha ucciso Ma sicuro Nico che hai le telecamere adesso Self report Self report Marci Ex-Ao Ex-Ao Raga Ex-Ao Benvene Nooo Dai che troll Avresti buttato fuori Nico Avresti buttato fuori Sarese stato Una persona orribile Mi stavo quasi avuto A un certo punto Mi stavo autoconvincendo Che ero io l'impostore Che ero io